Aspetto. Forma generale. Cane piccolo e compatto. La testa ha una caratteristica forma a mela. La lunghezza del corpo è leggermente maggiore dell'altezza algarrese. Dimensioni. Nello standard di questa razza, la crescita non è indicata, il peso va da 500 grammi a 3 kg. Capo. Ha forma di mela tondeggiante con o senza una piccola fontanella parietale. Il passaggio dalla fronte al muso è ben definito, profondo e ampio, la fronte è molto arrotondata alla base del muso. Il muso è corto, di profilo sembra diritto, largo alla base, si assottiglia verso il tartufo. Il tartufo è piuttosto corto, leggermente all'insù, qualsiasi colore è consentito. Le labbra sono secche, aderenti. Le guance sono deboli e molto secche. Forbice o morso dritto. Gli occhi sono grandi e rotondi, molto espressivi, poco prominenti, di colore molto scuro. Gli occhi chiari sono accettabili ma non desiderabili. Le orecchie sono grandi, erette, larghe alla base, leggermente affusolate e arrotondate alle estremità. Il pelo è morbido e setoso, dritto o leggermente ondulato, con sottopelo poco fitto. Il pelo sulle orecchie è più lungo, formando piume, il pelo di vestizione, è ben sviluppato su petto, zampe posteriori e coda. Colore. Sono ammessi tutti i colori, le loro sfumature e combinazioni di colori. Tratti distintivi del carattere. Il Kiwawa è un cane equilibrato e aggraziato simile a un terrier che non pesa più di sei libre. La testa arrotondata a mela, è il biglietto da visita della razza. Le orecchie dritte e gli occhi pieni e luminosi sono molto espressivi. I Kiwawa hanno lealtà e buon fascino. Anche i cani piccoli richiedono addestramento, senza questo un piccolo furfante intelligente gestirà la tua casa come un piccolo Napoleone. Compatti e sicuri di sé, i Kiwawa sono animali domestici ideali in città. Sono troppo piccoli per giocare con i bambini senza supervisione, poiché il bambino può danneggiare il cane mentre gioca con esso, nella stagione fredda è necessario prestare particolare attenzione per evitare l'ipotermia. Il Kiwawa è un cane da compagnia. È considerato il cane più piccolo del mondo e porta il nome dello stato messicano di Kiwawa. Si presume che gli antenati di questo cane vivessero allo stato brado, e, nell'era della civiltà, i Toltechi furono addomesticati da loro. Ha un corpo compatto e ha un carattere vivace e deciso. I cinologi affermano che questa razza occupa uno dei luoghi più significativi nella storia dell'allevamento di cani antichi e moderni. Il Kiwawa ha avuto un impatto significativo sulla formazione di altre razze nane. Tuttavia, la razza Kiwawa ha una serie di vantaggi e vantaggi rispetto ad altri cani in miniatura. Buona salute, alta intelligenza, contatto e natura docile. Punti salienti e fatti interessanti. Insieme al Bosser, allo Schiperche e allo Schnauser Standard, il Kiwawa è stato riconosciuto dall'AKC nel 1904, ed è la sua 54esima razza. Il Kiwawa è disponibile in due varietà. A pelo lungo, o a pelo liscio. La razza prende il nome dallo stato messicano di Kiwawa, dove sono stati trovati i primi esemplari della razza. Immagini di cani che ricordano i moderni Kiwawa si trovano in antichi dipinti in Messico. I Toltechi, che esistevano in quello che oggi è il Messico già nel IX secolo d.C., avevano una razza di cani chiamata Tekiki. Questa razza, considerata indigena dell'America centrale, è l'antenata del Kiwawa che esiste oggi. Kiwawa è un clan, che preferisce i compagni della sua razza. Si pensa che le piccole dimensioni del moderno Kiwawa siano il risultato dell'attraversamento di una Tekika con un piccolo cane calvo portato dall'Asia in Alaska su un ponte di terra che ora è lo stretto di Bering. Storia della razza. Questa è la razza di cane più piccola. L'origine di questa razza è molto controversa. Vari ricercatori chiamano molti paesi il luogo di nascita di Kiwawa. Giappone, Cina, Egitto, l'isola di Malta. Si ritiene inoltre che siano finiti in Messico, dove sono stati portati dai conquistadores spagnoli o dai commercianti cinesi poco più di cento anni fa. Tuttavia, l'opinione prevalente è che la patria storica di Kiwawa sia ancora il Messico. Sul suo territorio, nelle zone abitate dalle leggendarie tribù indiane dei Maya, Toltechi, Aztechi e Incas, sono state scoperte pitture rupestri e statuine fitili raffiguranti cani di piccola taglia, molto simili agli attuali Kiwawa. Il nome della razza deriva dalla provincia omonima nel nord del Messico, dove il moderno Kiwawa fu scoperto per la prima volta dai turisti americani nel XIX secolo. A volte questa razza è chiamata Shivava, pronuncia inglese di Kiwawa. I cani furono portati negli Stati Uniti, dove iniziò l'allevamento. Nel 1884, il Kiwawa fu presentato per la prima volta al Piladelpiadov Show. Sulla base del Kiwawa messicano incontaminato, incrociando con altre razze in miniatura a pelo lungo, è stato allevato il Kiwawa a pelo lungo, che in breve tempo ha guadagnato una popolarità eccezionale. Sebbene singoli esemplari di Kiwawa, siano conosciuti in Europa dall'inizio del XX secolo, la loro distribuzione nel continente europeo è iniziata a metà degli anni 50 del secolo scorso. I Kiwawa sono intelligenti e vivaci, sono ottimi compagni per chi vive in appartamento. La maggior parte di questi cani sono giocherelloni, curiosi, allegri, sicuri di sé. Difidano degli estranei, e si sforzano di difendere il loro territorio. Andare d'accordo con altri cani e animali. I requisiti di camminata sono minimi, a molti non piace nemmeno uscire. I cani a pelo liscio hanno bisogno di una protezione extra in caso di clima fresco e umido. Il mantello dei cani a pelo liscio richiede una cura minima, mentre i cani a pelo lungo richiedono una pulizia semplice e regolare. Manutenzione e cura. Il cibo per cani di buona qualità, appropriato per l'età del cane, conterrà tutti i nutrienti di cui la razza ha bisogno. Alcuni chihuahua sono inclini al sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Scopri quali alimenti sono sicuri per i cani e quali no. Verifica con il tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulle condizioni del tuo cane. Le due varietà di lana di chihuahua hanno esigenze di toilettatura leggermente diverse. I chihuahua con il pelo liscio devono essere spazzolati solo occasionalmente e lavati regolarmente nella vasca da bagno per avere un aspetto kick, mentre i chihuahua a pelo lungo dovrebbero essere spazzolati almeno una volta alla settimana per evitare che si aggroviglino. Entrambe le varietà dovrebbero avere le unghie tagliate regolarmente. È necessaria una buona cura dentale, che dovrebbe includere la spazzolatura dei denti del cane, e il veterinario può anche raccomandare prelibatezze formulate come parte di un programma di cure dentistiche. Controlla regolarmente le orecchie del chihuahua e rimuovi cerume e detriti in eccesso per evitare infezioni all'orecchio. Chi huahua ama correre e giocare e di solito, può fare abbastanza esercizio in uno spazio molto piccolo. Per questa razza felice, di solito è sufficiente correre dietro al suo padrone. Passeggiate brevi e lente manterranno il tuo cane in buone condizioni di peso e condizioni. Evita di sovraocaricare il chi huahua. Se il tuo cane respira pesantemente, e fa fatica a tenere il passo, è ora di prenderlo in braccio, e portarlo a casa. Chi huahua è un cagnolino molto vigile con un'elevata intelligenza. Si sforza di compiacere la sua gente, e risponde bene alla formazione positiva. I chi huahua sembrano sapere molto bene quanto sono carini e sanno come usarli per ottenere ciò che vogliono. Fin dall'inizio, devi assicurarti di essere al comando. Non lasciare mai che un cucciolo di chi huahua faccia qualcosa di inappropriato per un chi huahua adulto. Possono avere un temperamento un po' terrier, quindi è necessaria una mano ferma ma gentile durante l'allenamento. Possono eccellere nell'addestramento all'obbedienza, e in altri sport canini. Salute. Il chi huahua è una razza geneticamente sana, un cane adulto, la cui salute è monitorata, praticamente non si ammala. I chi huahua vivono in media 14 al 16 anni. Ma ci sono anche tali individui che vivono fino a 18 al 20 anni. Le malattie più comuni di questa razza sono Allergie, ipoglicemia, displasia della valvola mitrale, idrocefalo, stenosi polmonare, demodicosi, urolitiasi, epilessia, critorchidismo, reumatismi ossei, lussazione traumatica della rotula, atrofia progressiva della retina, difficoltà del travaglio e problemi dentali, e gengive. Bisogna fare attenzione a non raffreddare eccessivamente il chi huahua. L'ipotermia può provocare raffreddori e successive malattie broncopolmonari. Allergie. Le allergie al chi huahua possono manifestarsi con cibo, oggetti di uso quotidiano, shampoo, saponi, detergenti sintetici e profumo dell'ospite. Le allergie del chi huahua sono principalmente eruzioni cutanee e perdita di capelli. Il cane potrebbe essere preoccupato per il prurito, può rosicchiare da sola le aree interessate. Idrocefalo. I cani chi huahua sono gli unici nati con una fontanella. Solo entro 3 aprile mesi è la formazione finale della volta del loro cranio. A causa di questa caratteristica fisiologica, il chi huahua è incline all'idrocefalo. Problemi con denti e gengive. Le malattie più comuni del cavo orale sono pulpite, carie, tartaro, cisti da ritenzione, parodontite e si verificano anche fratture della mandibola. Pertanto, fin dalla tenera età, è necessario prendersi cura dei propri denti. I denti da latte del chi huahua spesso non cadono da soli, e, se non vengono rimossi in tempo, il morso può essere gravemente danneggiato. Ipoglicemia. I chi huahua sono a rischio di ipoglicemia e ipoglicemia. L'ipoglicemia è più comune nei cani adulti fragili così come nei cuccioli, e può verificarsi per affaticamento, dopo una maggiore attività, o a causa di un'alimentazione irregolare, se il cane non ha mangiato per più di 6 ore. I segni di ipoglicemia comprendono letargia, sonnolenza, difficoltà a coordinare i movimenti, spasmi dei muscoli del collo, gettando la testa all'indietro o di lato, svenimento e convulsioni. L'ipoglicemia può essere evitata con un'alimentazione adeguata e pasti frequenti, 3 aprile volte al giorno. Per le emergenze, i proprietari di chi huahua dovrebbero avere a portata di mano un semplice integratore di zucchero come lo sciroppo di mais. Questo integratore può essere strofinato sulle gengive e sulla parte superiore della bocca per aumentare rapidamente i livelli di zucchero nel sangue. Prezzo e come acquistare correttamente Il chi huahua di solito costa tra 300 dollari e 800 dollari. Le razze rare di chi huahua come merle e blu e chi huahua sono più costose. I chi huahua blu sono leggermente più comuni, ma ancora molto rari e costosi, i più basso intorno a 850 dollari. Sono noti per la loro tonalità di grigio bluastra, per la quale i proprietari sono disposti a pagare un extra. I prezzi dei chi huahua possono variare in base all'età, alle dimensioni, al sesso, alle condizioni e ad altri fattori. Linea di fondo. Una razza di cani decorativi usati come compagni. È considerata la razza più antica del continente americano e il cane più piccolo del mondo. Nonostante le loro dimensioni, chi huahua è insolitamente coraggioso, arrogante, audace e indipendente. Legati al proprietario, questi cani possono usare i denti se qualcosa non è di loro gradimento. Pertanto, non è consigliabile lasciarli soli con bambini piccoli.